Devo dire che ormai c'è poco da commentare, speriamo che parta presto questo tavolo per l'accordo di programma con la Regione Puglia che stiamo riprogrammando e speriamo che il governo ci dia modo come comunità di incidere veramente sul futuro di quell'azienda, ad oggi noi vediamo troppi pochi dettagli, non vediamo niente per la salute e l'ambiente e quindi ci sembra che tutte le garanzie di quel piano siano sbilanciate a favore del privato, del mercato, della produzione e non delle esigenze che ormai da tempo la comunità esprime, però è chiaro che ormai è inutile piangere sul latte versato e discutere di cose che ancora non percepiamo, vedremo quando il governo presenterà il piano nel dettaglio come poter incidere. Ovviamente non siamo in possesso del piano nella sua interezza, però da una nota stampa sindaco le chiedo di commentare davvero queste due righe che scrive Mittal perché sono inserite anche queste famigerate closing che sono anche questi termini un po' anglosassoni, cioè le condizioni sospensive comprendono modifica del piano ambientale esistente per tenere conto delle modifiche del nuovo piano industriale e poi la revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento di Taranto e l'assenza di misure restrittive nell'ambito del procedimento penale per cui l'ILVA è imputata, cioè una Mittal un po' più libera da questi vincoli. Assolutamente sì, è il motivo per cui diciamo che c'è troppo trionfalismo nei comunicati del governo, tra l'altro come al solito è stato intempestivo e indelicato anche il partner privato perché nelle primissime ore dopo un accordo così contestato alla comunità non ci saremmo aspettati addirittura questo sforzo muscolare di Mittal di far notare a tutto il mondo e al mercato quanto è più forte e più libera nel negoziato nei confronti del governo. Spero che il governo si renda conto dell'errore che ha fatto e sul tavolo come dicevo dall'accordo di programma ci metta in condizioni di incidere per una vera riconversione tecnologica. Ad oggi quello è il piano peggiore per la città dal punto di vista della salute e dell'ambiente al di là delle note che sono state trasferite e che parlano di uno scenario molto lungo al 2030, molto ipotetico, la verità dei fatti è che non si va oltre un abbattimento del 23% delle polveri, tanto per dare un numero. Il fatto che Arcelor Mittal, ancora una volta, mostri muscoli nel rapporto col governo ovviamente conferma le nostre preoccupazioni. Mi piacerebbe poi capire adesso rispetto a queste valutazioni di Arcelor Mittal come si esprimono per esempio i sindacati che in qualche maniera brindavano a questo piano. Peraltro per quello che a nostra conoscenza da gennaio quel piano provocherà immediatamente altre 3.000 lavoratori diretti in cassa integrazione e questo è un problema ovviamente di nuovo sociale e economico che resta alla comunità, non ad Arcelor Mittal.